Due arresti e il sequestro di una pistola di 400 grammi di cocaina sono il bilancio di un'operazione condotta dalla polizia fra Fano, Pesaro e Urbino. Nel Fanese gli agenti della squadra mobile del commissariato hanno arrestato un'albanese che operava tra il parcheggio del cimitero cittadino e il Pincio. Già noto alle forze dell'ordine è stato pedinato, fino a che il 27 febbraio scorso, dopo diversi appostamenti, è scattato il blitz. L'uomo ha cercato di fuggire prima in sella al suo scooter verso il canale Albani, poi una volta abbandonato il veicolo è scappato a piedi ed ha cercato di disfarsi di un paio di involucri con 60 grammi di cocaina, poi recuperati, ma gettandoli dietro una siepe. È stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti circa 250 grammi di cocaina e una pistola semi-automatica calibro 9, Parabellum, da guerra, di fabbricazione croata con un caricatore inserito e 10 proiettili del medesimo calibro. Il pusher, un 35enne residente nella zona periferica di Fano, è stato condotto in carcere. È una pistola clandestina proveniente dall'est Europa, i cui accertamenti naturalmente adesso ora saranno svolti per verificare, oltre alla provenienza certa della pistola, anche per un eventuale utilizzo che ne è stato fatto sul territorio, soprattutto fanese. A Pesaro, invece, il personale della questura e dei commissariati di Fano e Urbino ha manettato per spaccio un cuoco del posto. L'uomo di 38 anni, residente in Baia Flaminia, era già stato arrestato circa tre anni fa. Questa volta i poliziotti lo hanno aspettato fuori dal suo appartamento in via Belgrado, perché nei giorni precedenti avevano notato lo strano via e vai di parecchi giovani, alcuni di loro già noti, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Sospettavano che quel pomeriggio il 38enne si fosse recato fuori città per rifornirsi di droga. E non si sbagliavano, quando era entrato è stato sottoposto a perquisizione. Addosso aveva una bussa contenente 52 grammi di cocaina e 250 euro in contanti, insomma, ritenuta essere il provento dello spaccio. Le successive perquisizioni della vettura e dell'appartamento hanno consentito di recuperare ulteriori 63 grammi di cocaina in parte, già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e una confezione di mannitolo, sostanza comunemente utilizzata per il taglio. Per il pesarese stessa sorte, ieri l'autorità giudiziaria ha convalidato anche il suo arresto, disponendo quindi, in entrambi i casi, la custodia nel carcere di Villa Fastigi. Per quanto riguarda gli assuntori di droga, invece, sono quasi tutte persone giovani, di età compresa tra i 20 e i 45 anni. Le fasce di età oscillano, una fascia abbastanza giovanile, ed è proprio questo che ci ha attirato l'attenzione durante i pattuglioni, cioè avere la presenza e il movimento di tanta gente poi dà un segnale per uno sviluppo investigativo successivo.